Questa è la storia di una ragazzina, una ragazzina che aveva un padre, anzi padre, aveva un padrone, aveva due sorelle, due sorellastre, ma il bello è che questa ragazzina avrebbe voluto sposare un ciambellano, che però era un principe. A porto il nord, in si trui. Sta arrivando una bellissima carrozza che si ferma proprio davanti alla porta. A porto il nord, in si trui. 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 Il nord, in si trui.